L'idea è partita un anno fa dalla consigliera regionale Michaela Vitri, appassionata di padel e sostenitrice dello Iopra che ha deciso di unire sport e solidarietà attraverso le racchette. Un obiettivo che ha trovato porte aperte nello Smash Paddle & Beach e così un anno fa 100 giocatori e giocatrici di padel si sono sfidati sui campi di Baia Flaminia per il primo trofeo Iopra che domenica 11 settembre sarà replicato con una seconda edizione che supererà quota 100. Tanti giocatori per altrettante iscrizioni che saranno devolute all'associazione pesarese che fornisce assistenza ai malati oncologici. Chiaramente abbiamo avuto un successo strepitoso, un'adesione veramente eccezionale. Dalle 9 della mattina ci sono stati sempre giocatori che hanno giocato fino alla sera alle 11 quindi e poi non siamo riusciti neanche a finire i gironi. Quindi è stata una cosa veramente spontanea è venuta fuori per un'idea della Micaela Vitri e nostra e insieme abbiamo pensato di donare da loro l'opera tutto questo ricavato. È bello perché questo sport nuovo ha preso piede anche nella nostra città e stiamo veramente avendo un grosso successo e praticamente vogliamo ripetere i successi che abbiamo fatto l'anno scorso con questa nuova seconda edizione. Si comincerà alle 9 di mattina con gironi già definiti di coppie miste che nel tardo pomeriggio eleggeranno il simbolico vincitore a sostegno delle attività portate avanti dallo Iopra. Lo Iopra è stato creato, fondato a Pesaro dalla dottoressa Antoniello, Gregoria Antoniello, moglie del dottor Raffaele Antoniello, il quale era deceduto, cioè è deceduto in quella data e la signora ha creato questa fondazione. Questa fondazione non è una fondazione, è una Ollus che si chiama oggi ODV. Noi lavoriamo sul territorio, abbiamo tre medici, tre infermieri, l'assistenza psicologica con la dottoressa Michela Occhielli e in più abbiamo la collaborazione con lo studio radio e per quello che concerne la fisioterapia perché molti pazienti hanno difficoltà di mobilità e in più oggi abbiamo messo anche in queste collaborazioni l'estetica oncologica per essere di supporto a quelle persone che hanno bisogno di drenaggi o cose particolari e postumi degli interventi. Abbiamo tra i nostri assistiti circa 150 pazienti che non li chiamerei terminali, li chiamo bensì oncologici perché ringraziando il Dio ci sono persone che si riabilitano, riescono a guarire, a guarire e a tirare avanti per molti anni, diciamo così. Il torneo benefico è sostenuto dai Lions Club del territorio, dal comune di Pesero e dal patrocinio della regione per un appuntamento sportivo che diventa linfa vitale all'attività di raccolta fondi dello Iopra fortemente menomata durante il periodo pandemico. La cosa più importante ecco appunto sono queste manifestazioni che creano a favore dello Iopra e anche qualche privato magari fa una festa, un compleanno, ce lo dedica e di conseguenza per noi una linfa è un modo di andare avanti perché i costi dello Iopra sono tanti, voi sappiate che rimborsi spese e molte cose abbiamo da sopperire e quindi andiamo avanti così.